Il 2023 per l'assessorato ai servizi sociali si apre con un momento importante, quello che vede la chiusura del fondo affitti del Comune di Pesaro e l'imminente erogazione dal mese di febbraio alla luce delle domande pervenute, domande che sono molto aumentate da un anno all'altro. C'è un contributo importante col fondo affitto quest'anno perché sono mezzo milione di euro, ma ci sono tante domande, 300 più del passato, quindi siamo sulle 1.080, a giustificare il fatto che effettivamente c'è una problematica e sono risorse che sono importanti per sostenere le famiglie. Questo contributo si aggirerà dai 600 ai 300 euro a richiedente in base alla fascia A o B in cui erano inserite, però sono fra altre interventi che abbiamo fatto, sono interventi importanti per i piazaresi. Ecco, questo intervento è anche un termometro di una certa emergenza che viene completata anche dalla difficoltà nel trovare case, affitti. Come Comune state intervenendo anche col primo progetto di housing sociale a Villa Ceccolini in tal senso? Sì, ci stiamo attivando in maniera diversa perché il problema c'è ed è articolato, quindi è affrontato in maniera diversa. Un intervento importante è quello dell'housing sociale che è partito in Villa Ceccolini che prevede una tantina di appartamenti riservati a famiglie in difficoltà. Abbiamo fatto anche in quest'estate, però abbiamo fatto uscire anche un bando, una manifestazione di interesse con il terzo settore che richiedeva al terzo settore di individuare degli spazi e fare una progettualità condivisa col Comune a sostegno abitativo delle famiglie. Abbiamo avuto la risposta, ad esempio, della parrocchia di Borgo Santa Maria dove ci sono inserite tre famiglie e speriamo di lavorare meglio e di trovare altre soluzioni, ma ci stiamo attivando anche con percorsi paralleli. Anche in ragione del fatto che c'è stato il bando ERAP in questi giorni che poi uscirà in estate, ma la disponibilità di case dell'edilizia popolare non è tanta e quindi bisogna trovare soluzioni alternative per dare risposta abitativa ai cittadini.